Vecchia Eh ma Rai Esch, non voglio che baule, lo taglia lì Eh, ti senti G-Voas Questa è Vicenza, voglio che Vicenza fa qualche baule secondo me Credibile, hanno trovato un'arma Ti piaciò cazzo che patano, andò Ma questa gente chi è? Non lo so, è il bot Ah, sei bot Voglio che baule Vabbè, però non è da mettere accaduto con le che... Beh, perlanto non c'è, perlanto non c'è Venga, la giamberina ci trova Dai, andò la giamberina Oh, ma non lo sento, lego Eh, ho così Chi spara, Ayu? Un bot Significa, andò Ma che ci sta qua? Ma che ci sta qua giù, Ayu? Ma che faccio proprio, arrivi alla casa! Non è sciomata terra Oh, mamma mia Vabbè, come sei? Vabbè, come sei? Vabbè, avete visto quanto è stata bella il video di presentazione di Sarri alla Lazio? Schif Vabbè, l'alazio? Non so che non manchi Non anche io so E' stato carino Ah, poi c'è un po' scombastardo All'anno prossimo voglio vedere sulle conferenze stampo voglio Io adesso aspetto solo la vezzi e cavani Ah, no, ci ho pagato tempo Alla Lazio Iguain che insegna Alla Lazio Oh, cosa hai detto la vezzi e cavani? Non si vede a Maximo i cesai Brava, se se li prende Allora, se se li prende tutti e due Lo schifo un po' di meno Oh, macchina Significa, macchina 3, 2 C'è una macchina Vi ho fatto 3, 2 Ma può significare, Mario, macchina Significa, lupo Ma come fai a essere così? Ti vedevo cos'è tipo macchina gialla, sai quelle cose? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mannaccio, bambine Benvenuti nel 2008 Cosa fa adesso? Cosa fa adesso? Macchina Ma sembrava Ma io 105 e macchina col cecchino Sono un giocatore più forte Eh, ma ci appigliono lattiche Lattiche Eh, ma oh cazzo di Dio Ventinelle frasco, Aiu Lascia un attimo, Aiu Io Eh, tu... Da qualcuno che sta volando, eee Nooo Sonti in registrazione Del ladro Non lo vuole Ecco, di una parte.. MATI AL PASC Ma perchè c'è gente sull'uomo? Ehi, GENTIN! EDO! E non lo lega! La ne vedi da noi Wow, ando! Questo ce l'ha rimetto la mamma Ma? Mario! Non ho capito Non ho capito Quindi, l'audio della porta è tipo questa su un video che non c'è marone salva clip merda mario mario che strunz l'uomo brasilero è un gioco a pia non avvicinati ma che è suoi ma che saranno l'aliena domino ma posso salire con te non ci devo mettere dove devo scendere sapevo che sono arrivato sono morta qua quanto fa no ragazzo per favore non sono sull'arma imbecile che sono cazzo non ci crede il perfetto, ragazzi è morto ecco qua vabbè voglio prendere il gioco metto pronto ahahahah io ho fatto la scimmietta con i piatti ma c'è un bezzo di inbergo ti augurerei la morte per me che mi hanno ucciso per il giro mi serviva l'arma no, 7 2.2 uguali, la bambina, la bambina, la bambina 5 slot 7 anni c'è il peppe mi sta dicendo di tendo eh c'è non ci ho visto non so io una parola sta gente non veramente c'è il wall up ecco lì spara vicino ma chi andrà giù a tutto no spara atterrato ma fa un mok io credo, via una picelle fuite oh figo stavo l'anno non capo, stavo l'anno non capo non riesce a trasigliare maaa peggio prendi la macchina, prendite la macchina vai be vai 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 vieni la macchina vieni la macchina che piace, che piace vieni la macchina va è un pidilio vieni la macchina vieni la macchina non prendi la scheda andro a cerito ma che succede? vincere veramente vincere veramente ma come vuoi andare? sei morto adesso? sei morto adesso? ma che è successo? guerre stellari ma io penso che si stavano a te è la 50 se vieni verso di me abbiamo avuto l'ancio me li sto dando io a voi per una volta io ci hanno lanciato la cosa per vedere me l'ho visto a me spostatevegli spostatemi un po' mi sto spostando ma non è problema ah sono full di colpi bomba 158 ok stanno la non è qua voglio sono due squadre voglio ma come mi ha visto voglio ma come mi ha visto voglio perché qualcosa spara attraverso le costruzioni eh ho capito ma come mi ha visto ecco ci ha spottato ho capito ho capito eh l'ho detto che ci spiegacchius ancora ma l'avete alzato no 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 ti metti da lenta qualcosa che non può essere rotto questo no va bene ma Anto ma si dice a me o Boricino quali sono le munizioni da voglio quali sono le munizioni tu sai tu sei scuio io andò perchè mi vedo trasparente io se ne hai scuio no no so fuori quindi vabbè non vai se mi muovo non riesco più a fare c'è l'hai scudini c'ho solo scudini che vengono per un attimo cazzo è qui ando dei misannanzi, io? no killata ando, ero picchiata da kill, ero picchiata attento al check inovolo, vai io basso, vai io basso, vai io qui vicino, vai io caduto? è lì, è lì, è lì, è lì, finito i materiali vai io ma come fa a fare questi danni? vai io, va bene, vai io, vai io, vai io, vai io, vai io, vai io vai io, vai io, vai io, vai io da sopra, eh, vai io da sopra, ha atterrato, ha atterrato uno, vai io, uno su, sopra tutto, l'ha atterrato, vai io, non ho solo, vai io, non ho C'è la piccola, la piccola, la piccola Let's go, let's go ranger Ma allora siete più forti di me Sei gil, non ho fatto, sei gil Che faccio? Non ho capito niente dall'inizio della fine